Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria Chiara è decisa come sempre la posizione del movimento Casa Pound che nel corso della notte appena trascorsa ha affisso uno striscione sull'inferiata del monumento alla vittoria dove si leggeva quanto scritto col sangue degli eroi non si cancella con la saliva dei politici. Lo striscione è stato poco dopo tolto dagli uomini della questura di Bolzano. Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria